Su questi distacchi, adesso sì, 91 centesimi, soprattutto accusati in questa seconda, si può dire ancora poco. I francesi secondo me ci sono e si faranno sentire presto. Quello che mi è piaciuto di più, come dicevamo prima, è stato proprio Costes, perché considerando gli sciatori che devono puntare alla poppa, questo ha fatto sentire subito in modo pesante le sue velleità e la sua presenza. Accennavi al problema giustamente della schiena di Kostelic, ecco, un problema che non va a sottolineare.